Buongiorno e benvenuti a tutti coloro i quali ci stanno seguendo. Oggi parleremo di sostenibilità, parleremo di economia circolare, parleremo poi anche di persone, perché sono poi le persone che determinano i grandi cambiamenti. L'occasione è la sesta edizione di Size the Change, dare una taglia, dare una misura al cambiamento in atto. Di tutto questo ovviamente ne parliamo con Massimo Antonelli, che è l'amministratore delegato di EY Italia. L'occasione della presentazione del nuovo studio è solo una scusa, perché in realtà l'ambizione di EY è molto più alta. È molto più alta perché vuole cercare, attraverso lo studio, ma attraverso i dibattiti, attraverso i panel, attraverso le discussioni, e tutti coloro i quali interverranno, dare una misura di quello che sta cambiando, cercare di portare un piano inclinato della transizione energetica e della transizione ambientale, dargli un'ulteriore accelerazione anche in prospettiva di quello che accadrà nel nostro paese. Il nostro paese riceverà i fondi dell'Europa, dove molti di questi fondi sono destinati, non solo ai nostri giovani, non solo alla ripresa economica, ma proprio alle questioni ambientali e alle questioni ambientali legate alle imprese e all'industria. Allora, brevemente io mi concludo e ovviamente introduco subito Massimo Antonelli, abbiamo detto amministratore delegato EY Italia, quale tocca una presentazione, diciamo così, almeno inizialmente generale, dello studio. Allora, dove siamo arrivati con la sostenibilità ambientale secondo i vostri esperti? Bene, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Insomma, il quadro è un quadro complesso, diciamo 12 milioni di posti di lavoro a rischio in Europa, un PIL italiano che si contrae di circa il 9%, e insomma una situazione sicuramente complessa, dove il rapporto deficit-PIL arriverà probabilmente al 160%, quindi un fardello grave, diciamo, per le future generazioni, per i nostri figli. Quindi è una situazione complicata, dove sicuramente forse le cose stanno andando un pochino meglio rispetto a quello che ci si aspettava. Se guardiamo ad esempio ai consumi, il mese di dicembre ha segnato, verso l'anno precedente, un meno 47%. Meno 47% è una cifra importante, è una riduzione molto significativa, ma a novembre la riduzione era stata del 67%. Quindi forse le cose stanno leggermente migliorando, ma la situazione è sicuramente critica. Dove è chiaro che la ripresa economica e il fatto di riuscire a ricreare dei posti di lavoro è, come dire, la componente chiave. Ecco, qui si introduce, secondo me, in maniera diversa il dibattito sulla sostenibilità, perché la sostenibilità non è più, diciamo, un nice to have, non è più un qualcosa che sarebbe bello, diciamo, avere, ma è un qualcosa di centrale per la strategia delle aziende, di integrato con la trasformazione del business e quindi diventa qualcosa di più strutturale. Ecco, si parla, ad esempio, di sostenibilità come, diciamo, strumento per creare nuovi posti di lavoro. Quindi, se noi pensiamo che la comunità europea ha deciso di spendere il 37% delle proprie risorse, quindi 270 miliardi, su temi legati alla sostenibilità, al green, eccetera, pensiamo che, ad esempio, sarà possibile creare, tramite questo, 2 milioni e mezzo di posti di lavoro. E questo è un modo nuovo, un modo diverso di parlare, quindi, di sostenibilità. Anche in Italia si pensa che ci sarà l'opportunità di creare 800 mila nuovi posti di lavoro entro il 2025. Quindi, ripeto, un modo diverso, un modo nuovo di parlare di sostenibilità. Perché quando parliamo di sostenibilità, parliamo anche di cambiamenti che le aziende hanno affrontato, e stanno affrontando, e dovranno affrontare, ma cambiamenti che non devono essere visti come un momento di crisi o un momento di difficoltà, ma proprio per quello che sta accadendo, di cui abbiamo parlato, come un'opportunità, invece. Certo. Ora, finalmente, viene vista come un'opportunità, e quindi per questo diventa, diciamo, integrata nelle strategie di cambiamento delle aziende, di trasformazione del business, per creare nuovi posti di lavoro, ma anche per creare, diciamo, un modo diverso di lavorare, che metta al centro dell'attenzione le persone, e quindi che lasci, diciamo, un mondo migliore, non soltanto quello esterno, ma anche il mondo lavorativo, alle future generazioni. Quindi è un modo diverso di guardare al business, che, ripeto, mette al centro di questo cambiamento le persone e la sostenibilità. Nel redigere lo studio, i vostri esperti, i vostri partner, hanno sentito le aziende, perché poi emerge un quadro di quello che sta accadendo, grazie proprio ai loro pareri, ma poi anche nei panel successivi sentiremo dalla loro diretta voce che cosa sta accadendo. Però anche Massimo Antonella, amministratore legato di EWA Italia, ce lo può, come dire, anticipare in qualche modo. Qual è il punto di vista delle aziende? Sì, noi abbiamo intervistato e abbiamo analizzato molte aziende. Allora, qui il panorama è abbastanza diversificato. Due terzi, diciamo, di queste aziende vogliono continuare a lavorare sulla sostenibilità, sui temi della sostenibilità, ma soprattutto su, diciamo, obiettivi qualitativi. Sono poche ancora, quindi un 20% le aziende che vogliono accelerare sotto questo punto di vista, e circa un terzo quelle che si stanno dando degli obiettivi qualitativi e quantitativi, con delle scadenze e degli obiettivi definiti nel tempo. Quindi, diciamo che ci si sta muovendo in questa direzione, ma, insomma, c'è ancora molto da fare. Come ultima domanda mi tocca chiederlo, perché, come dire, va bene parlare degli altri, in qualche modo criticarli, in qualche modo dare suggerimenti, però, e why? Cosa sta facendo a sua volta? Cioè, come si sta presentando nei confronti della sostenibilità e di questi cambiamenti? Ma, io sono molto orgoglioso di essere alla guida di un'azienda che si è data degli obiettivi molto ambiziosi e molto precisi. Noi da gennaio siamo carbon neutral, nel 2021 saremo carbon negative e entro il 2025 saremo net zero. Questo presuppone una riduzione significativa delle nostre emissioni di circa il 40%, il che vuol dire che dovremo ridurre le trasferte delle nostre persone, dovremo lavorare sui nostri uffici per fare in modo che consumino meno energia, dovremo fare degli accordi con i nostri fornitori per raggiungere tutti questi che sono degli obiettivi molto ambiziosi e che si collocano, peraltro, in una strategia più ampia, diciamo, che impatta sul sociale. Noi, ad esempio, abbiamo fatto un accordo con i World Food Program, i vincitori del Nobel per la pace del 2020 in relazione al quale noi metteremo a disposizione le nostre conoscenze, i nostri skill per lavorare insieme a loro e portare queste competenze su opere ad alto impatto sociale. Ecco, questo è un altro tema importante dove quindi la strategia sulla sostenibilità si inserisce in un contesto più ampio che lavora sul sociale e che mette al centro del cambiamento le persone. Ecco, in proposito c'è un elemento che mi piace sottolineare. Nell'ultima survey l'enter value e sulla corporate governance è emersa un'indicazione chiara. Due terzi, più di due terzi dei CEO dicono che il Covid diciamo ha innalzato e accelerato le aspettative degli stakeholder sul fatto che siano le aziende a guidare questi cambiamenti rispetto a temi come la sostenibilità e quindi il sociale eccetera. Ora, questo fa ricadere una grandissima responsabilità quindi su noi, sulle aziende, sugli imprenditori che quindi hanno questo compito importantissimo di cambiare il futuro, ridisegnare il mondo che ci sta intorno per le nuove generazioni. Questo è una responsabilità grandissima. Ringraziamo allora Massimo Antonelli, amministratore delegato di EY Italia che è stato un padrone di casa esemplare perché ha sintetizzato la ricerca che oggi viene presentata sulla sostenibilità Size the Change edizione 2021 che abbiamo detto non soltanto non studio ma un'occasione di dibattito e di dibattito ci sarà perché ora entreremo nel dettaglio della ricerca ancora in maniera più approfondita e poi ci saranno cinque momenti di discussione con protagonisti dell'attività e della vita economica con aziende manager e fondi di investimento che ci racconteranno come le aziende stanno affrontando il cambiamento climatico il cambiamento della sostenibilità il cambiamento dell'economia circolare in particolare i cinque focus avremo sulla sostenibilità come modello di business il climate change inevitabile l'economia circolare che è uno dei master italiani dove le aziende italiane hanno le medie superiori a quelle del resto d'Europa sulla mobilità perché lo sappiamo lo incontriamo tutti i giorni sta cambiando il nostro modo di muoversi e infine per la finanza sostenibile perché comunque come tutte le attività devono stare in piedi devono in qualche modo finanziarsi e devono esserci gli investimenti ma siccome nelle imprese non soltanto le imprese private si stanno confrontando con la sostenibilità ma anche la più grande delle imprese di tutto diciamo lo Stato se ne sta occupando magari da poco ma sta muovendo i primi passi e sono primi passi molto importanti anche in previsione dei fondi europei che stanno arrivando e quindi ora ci colleghiamo con Antonio Scino capo del Dipartimento per la programazione e coordinamento della politica economica che ci racconterà che cosa sta facendo lo Stato su questo tema grazie a tutti e grazie a Massimo Antonelli grazie a tutti